Nessuno più ha ormai nulla da eccepire circa la chirurgia estetica del naso, delle palpebre, della bocca, del seno, dell'addome o verso la liposuzione o il trattamento cosmetico delle venuzze delle gambe o del viso. Probabilmente se non ci fossero i costi elevati che questo tipo di chirurgia richiede, gran parte degli esseri umani nei pesi evoluti si sarebbe già sottoposta a qualche forma di correzione del proprio corpo. Una barriera di pregiudizi circonda invece la chirurgia estetica e funzionale dei genitali, in particolare per il persistere di tabù secolari che accompagnano gli argomenti legati al sesso. È palese che spesso il ricorso alla chirurgia estetica nasconde solo problematiche psicologiche che non si risolveranno, certo modificando qualche particolare del corpo. Queste riserve riguardano lo stesso modo le modifiche al naso come quella alla vulva e quindi ognuno dovrebbe interrogarsi a fondo sulle reali motivazioni di queste scelte. Non dimentichiamo inoltre che viviamo in un'epoca dove la maggiore libertà sessuale e l'esposizione della vulva depilata determinano un nuovo desiderio di adeguatezza estetica e funzionale ai modelli che la moda e i media propongono con sempre maggiore spregiudicatezza. È appena il caso di ricordare che la scelta di un ginecologo preparato nella riparazione plastica di vulva e vagina è alla base di una riuscita soddisfacente di questi interventi che si programmano non per malattia ma per modificare come meglio ci aggrada la nostra immagine corporea.